Qual è la prima cosa che hai voglia di fare? Il tuo desiderio più grande è quello che non ti sei riuscita a concedere in questi giorni. Chi vuoi vedere e che cosa vuoi fare? Voglio andare a mangiare una pizza con i miei amici. Dove? Non lo so. Da questa pubblicità occulta. La tua città, sì. Grazie. In pizzeria. Mattia Marzi, vai. Magari le fanno portare a casa. No, no, si mangia appena fatta. O le fanno a casa. Anche. La faccia, la faccia, Angelina. Va bene.